Ciao a tutti, bentornati, sono Matteo dalla nostra sede di Cambiago di Mano in Mano. Come ogni settimana vi propongo 10 prodotti novità che andranno in pubblicazione nei prossimi giorni e alla fine del video proclameremo il vincitore dell'indovina il prezzo che c'è stato nella precedente puntata, oltre a presentarvi chiaramente il nuovo prodotto di cui vi chiediamo appunto questo giochino di indovinare il prezzo. Alcune cose prima di cominciare, iscrivetevi se vi va al nostro canale YouTube e mettete un bel like al nostro video, i miei contatti che sono 351-690-4263 o assistenzaclienti-di-mano-in-mano.it Perché i miei contatti? Perché tutti i prodotti che vedete sono già acquistabili o anche altri prodotti che magari state vedendo alle mie spalle o per avere informazioni sulla spedizione, sul restauro, tutto quello che viene in mente, quasi tutto quello che viene in mente scrivetemelo. Altra cosa, segnare subito sul calendario 8 giugno All You Can Read, evento che si tiene una volta all'anno e quindi da non perdere. Se volete appunto capire come funziona, sul sito c'è una pagina dedicata con tutte le varie dinamiche appunto di questo evento. Si terrà sia a Milano che a Cambiago dalle 10 alle 19. Quindi per ogni informazione comunque scrivetemi. Partirei subito Giada con il primo prodotto di oggi che è qua alle tue spalle. Eccolo qua. È uno scrittoio neorinascimento. Siamo in Italia tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. È sorretto da montanti torniti connessi da traverse, come si può vedere anche esse tornite. Sono presenti due cassetti nella fascia sottopiano e, eccoli qua, intanto li apro, uno e due, e altrettanti qui sopra, uno e due, nell'alzatina. A inquadrare un vano portadocumenti centrale, eccolo, quasi un segreto, è ornato da intagli con motivi di gusto neorinascimento appunto. Le misure sono 92 cm di altezza, 149 di larghezza e 83 di profondità. Il suo prezzo è di 620 euro. Passiamo al secondo oggetto di oggi con un pezzo di design. Librevia Congresso Lips Vago, anni 70, un pezzo iconico che deve essere presente nelle vostre case perché si adatta a qualsiasi ambiente. Dicevo appunto, siamo negli anni 70, il materiale è metallo smaltato e i ripiani sono regolabili in altezza. Le misure sono 220 di altezza, 98 di larghezza e 38 di profondità. Il suo prezzo è di 340 euro per questo pezzo singolo. Eventualmente abbiamo anche la sua sorellina che se volete lasciarle vicine potete fare un acquisto combinato. Abbiamo qua un'imperdibile panca da coro, come avete potuto vedere super funzionante con i nostri attori. È una panca da coro barocco, quindi circa 1650, di produzione del centro Italia, realizzata in legno di castagno. La struttura è bipartita e scandita da poderosi montanti, bellissimi, mossi a ricciolo. Le sedute sono ribaltabili e le misure sono 122 di altezza, 180 di larghezza, 45 di profondità. Vi faccio vedere le sedute, sono ribaltabili. Una e due. Il suo prezzo è di 930 euro. I nostri colleghi Jessica e Matteo, che di solito si occupano di marketing, sono disponibili per serate canore, quindi scrivetemi eventualmente anche per quello. Ma oggi, come ogni settimana, vi presentiamo un bel tappeto, che è questo. È un tappeto che arriva dall'Iran, un tappeto sumac, in cotone e lana, a nodo fine e fabbricazione manuale. Circa del 1960, ha delle misure molto importanti, soprattutto in larghezza, infatti non siamo riusciti a aprirlo tutto. Sono 385 centimetri di lunghezza e 295 di larghezza. È molto particolare, come vi sta facendo vedere Giada. Il suo prezzo è di 1440 euro. Sono qua con la nostra protagonista finale dell'ultimo video della settimana scorsa. Oggi però volevo presentarvi queste lampade, che sono due di nuova pubblicazione, mentre una è già presente sul nostro sito, molto particolari con queste lavorazioni del vetro, e sono questa lampada da tavolo, che è appunto anni 60-70, di manifattura italiana, in metallo cromato e vetro lavorato. È in buone condizioni, funzionante, come potete vedere, e le sue misure sono 36 centimetri di altezza e 35 il suo diametro massimo. Il suo prezzo è di 280 euro. Mentre la lampada che è qui al suo fianco, dopo aver passato questa bellissima poltrona, che è una coppia, già sul sito, è una lampada anni 60 da terra, tipo Space Ace, nello stile di Carlo Nason, con strutture in metallo cromato e doppia, racchiuse in vetri curvati e lavorati. Manifattura italiana, anche qui, 125 centimetri di altezza e 30 il suo diametro. Il suo prezzo è di 1250 euro. Ci troviamo ancora in negozio per presentarvi il prossimo articolo, che è questo nudo femminile, una scultura in bronzo, firmata Paganini, che poi vi faremo vedere sul retro. di origine italiana, è su base rettangolare in granito rosso. Adesso Giada ci fa vedere la firma. Ve la illumino perché... Eccola lì. Le misure sono 79 di altezza, 30 di larghezza e 21 di profondità, per un prezzo di 850 euro. In questo angolo di negozio abbiamo questo bellissimo mobile di Mario Vender, che trovate sul nostro sito, che è tutto completo, vi può completarvi una parete, abbellito, arricchito appunto dal nostro allestitore Alessio. Vi facciamo vedere uno degli oggetti presenti appunto in questa nicchia, che è questo porta ombrelli, visto che la pioggia non ci abbandona perlomeno qua a Milano. Anni 50-60 di Manifattura italiana, è in vetro, ottone e ferro dorato e i decori sono eseguiti a mola, raffigurante appunto ombrelli. Le misure sono 45 di altezza, 20 di larghezza e 23 di profondità, per un prezzo di 350 euro. Ho lasciato per ultimo il pezzo forte di questo video, che è un gruppo di sei sedie media di Vittorio Nobili per i fratelli Tagliabue. Sono sedie vintage, iconiche, un marchio super conosciuto, in metallo smaltato e seduta in compensato curvato. Sono state restaurate, come potete vedere, alla perfezione nei nostri laboratori e presentano il marchio della Manifattura, che adesso cerchiamo di mostrarvi. Eccolo qua. Mentre Giada ve le fa ammirare. Vi dico che le loro misure sono 83 cm di altezza, 46 di larghezza e 56 di profondità. L'altezza della seduta è 45 e il prezzo per il gruppo è di 4.800 euro. Siamo arrivati finalmente a conoscere chi ha vinto il nostro, indovina, il prezzo delle sedie. È con noi Anselmo, che lavora nella nostra libreria con la Maria Teresa e la Giulia, giusto, da 15 anni. È un tifosissimo del Milan, purtroppo. E allora Anselmo, fino alla morte ci dice. Anselmo, chi è che ha vinto il nostro, indovina il prezzo? Sergio con 250 euro. Il nostro, il signor Sergio ha vinto il nostro buono da 100 euro. Quindi grazie mille Anselmo. 250 euro. 240, ho sbagliato io a dirtelo. Aveva detto 240. Il prezzo delle sedie da indovinare era di 210 euro e quindi appunto con 240 euro il signor Sergio è colui che ha vinto il nostro buono. Oggi invece vi chiediamo di indovinare il prezzo di questa lampada da terra anni 60, con base in marmo, metallo e ottone e diffusore in vetro. Ve l'abbiamo accesa per farvela vedere, bellissima. Le sue misure sono 176 di altezza, 35 di diametro. Il prezzo, provate a indovinarlo, vi chiedo se è possibile di scriverlo nei commenti sotto questo video. Vi saluto, ricordandovi comunque i miei contatti che sono 351 690 4263 o assistenzaclienti chioccioladimanimano.it Alla prossima!